È davvero un piacere qualche volta poter raccontare una bella storia, una storia di Natale a lieto fine. Avevamo dato anche noi notizia qualche giorno fa di un assistito di Anfas che si era allontanato e molti lo cercavano, a cercarlo anche Mauro Casotto, comandante della Polizia Municipale di Gallianico, è veramente una ricerca approfondita, quasi miracolosa, ci racconti tutto. Diciamo che se non si crede al Natale, alla provvidenza, in qualche modo è difficile cercare di capire questa storia, perché a volte anch'io resto un po' incredulo. Resta il fatto che c'era questo giorno di festa infrasettimanale e invece di fare le solite cosine che si fanno, andare a comprare qualche regalo. Ho pensato di investire questa giornata nella ricerca di questo cittadino che è un parente di una famiglia che conosco molto bene, qui di Gallianico. Ho telefonato a questo mio amico, gli ho detto, senti ti dispiace se mi metto anch'io a cercarlo domani è una giornata libera. E quando mi ha detto sì, ho detto, beh, oramai sono in gioco, ci devo andare davvero. Problema, al mattino nevicava, quindi al mattino prestissimo, ho questa idea che una parte di me mi diceva stai facendo un giro per niente, stai sprecando il tuo tempo, il tuo denaro, una giornata di festa, solo per mettere a tacere magari la tua coscienza. E l'altra invece, non so perché, mi suggeriva, secondo me lo prendi, secondo me lo trovi davvero. Quando sono arrivato a Milano, un mattino presto, ho capito che avevo fatto una cosa sciocca perché come si esce da stazione centrale, che chi la conosce sa che è molto grande come struttura, c'è questo vialone enorme dove lungo i portici dei condomini ci sono letteralmente centinaia e centinaia di persone che dormono con coperte, con mezzi di fortuna, con sacchi a pelo. Lei si è recato fino a Milano perché era stato intercettato il suo telefono cellulare su una cella in quella zona lì, quindi lei si è recato lì. Quando l'ha trovato non è stato facile convincerlo a tornare. Ebbè, teniamo presente che è una persona che comunque si era allontanata volontariamente, per quanto fossero già diversi giorni che era lì, quindi possiamo immaginare come possa aver dormito, come possa aver mangiato, come possa aver vissuto quei giorni. Ci ho messo tutto il giorno con l'aiuto ovviamente del personale di Anfas, dei parenti, i contatti telefonici, ma che lui inizialmente stentava ad accettare. Resta il fatto che si sapeva, si confermo, si sapeva che era probabile che fosse nella zona di stazione centrale Milano, che comunque possiamo pensare quante stazioni delle metropolitane ci sono già solamente lì intorno e quante migliaia di persone passano lì. Tra l'altro, insomma, viste le temperature davvero rigide di questi giorni, adesso lui è sano, salvo è tornato a casa, è al caldo e all'affetto dei suoi. Insomma, davvero una storia che meritava di essere raccontata in questo momento particolare. È emozionante e ci fa credere ancora di più al Natale. Ci tengo a dire ancora una cosa. Quando si pensa a Milano, alla grande città, al distacco, al contatto personale che viene a mancare, devo dire che invece si trova qualcosa del genere anche lì.